Rebbi, io mi sento felice perché gioco con i miei compagni. Mi sento felice perché penso negli altri e poi mi sento emozionato perché non so quale possono essere le conseguenze, però ho visto una sorpresa dopo una determinata azione. Sì, e sono felice. Perché? Perché devo dare 16 anni per il rugby. Alessandro, giochi al rugby? Sì. Dove giochi? Giochi al rugby di Capitolina. Ti piace giocare al rugby? Sì. Perché? Perché le giochi al ragazzo. Grazie a tutti.